Non potendo disporre della morsa del pitone biancolino, Costantini fa strisciare al città di Arezzo la vipera artistico più nevrotica che velenosa per i due rossi in altrettante gare in Coppa Italia, il Cobra Rastelli rimasto ancora nel vaso in attesa che qualche fachiro lo faccia drizzare fuori e la piccola biscia Peluso, il tecnico di Sandona di Piave sa che buona parte della sua permanenza a Castellamare passa per le luci di Arezzo nel posticipo, luci che al pronti via illuminano la più temuta delle crape pelate, quella dell'ex Baclè. Traffico in aria, parte Bondi, palla a girare Baclè e c'è la rete, la rete dell'ex Alain Pierre Baclè che poi non esulta. La rete trasforma le vespe, persino una di quelle più rognose, Ametrano non a caso il numero 4 staviese muta il pungiglione in fioretto per artistico. Palla che poi arriva a De Rosa, De Rosa può andare a tiro, no, serve Ametrano, Ametrano, Scodella e c'è il gol, rete, rete, rete! Mario Ciccio, artistico, si sblocca l'attaccante, il flipper romano della Juve Stabia. Gara rimessa nei binari giusti? Sì, se non ci fossero i calci piazzati e qualche inzuccata sbagliata nel momento e nella porta sbagliata, quella di Monticciolo. Che è in fuorigioco, poi rientra Baclè. Attenzione qui su questa munizione e c'è l'autorete, Monticciolo, Beffa Brunner. Che peccato amici, ancora una volta però sul calcio piazzato. L'autorete manda negli spogliatoi una Juve Stabia in psicanalisi ma l'antidepressivo lo somministra dalla lunga distanza Peluso. Palla a Peluso sulla sinistra. Tiro di Peluso, rete, rete, rete! Maurizio, zigzag, Peluso! Che gol amici! Specialista in gol impossibile Tiziano Peluso. Ma proprio Peluso potrebbe compromettere il risultato quando in versione Koala si appende a Baclè che stacca sempre su palla inattiva infilando Brunner. Per l'arbitro il fallo è del francese. Pensa questo calcio d'angolo che batte Bondi, palla a rientrare e c'è il gol! E c'è il gol ancora! E annulla! Annulla l'arbitro! E comunque una sinfonia granata orchestrata da Baclè che stordisce le orecchie dei giallo blu incapaci di avanzare oltre la metà campo tanto che Peluso si trasforma in terzino sinistro e l'unico a solo stabiese prova ad intonarlo artistico al 43esimo ma è strozzato dall'uscita di Marco Nato. Così come si strozza in gol all'urlo del gol a Baclè al minuto 46 ciccando il 3-2. Questione di centimetri per lui. Questione di giorni invece per Costantini, quelli che lo accompagneranno durante questa settimana. Col pensiero fisso ad una difesa in bambola sui calci piazzati e un centrocampo scollato dall'attacco. Il carattere invece almeno quello c'è e un 2-2 così a rincorrere sempre la dice lunga.